Il Dantalighieri è stato prelevato su una nave di Dio dagli angeli di Dio, è prelevato e portato a vede l'inferno, purgatorio e paradiso, una divina commedia per esempio, è vera, è buccato Trento. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. È venuto, è venuto, è venuto a trovarmi, il demonio è venuto a trovarmi questa volta. L'inferno sta sotto terra, sta terra chi è cava, sotto c'è l'inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Se tutto è male in questo mondo, se tutto è corrotto in questo mondo, se tutto sta andando allo scatafascio, a partire dai grandi presidenti ai politici... Anzi, va giù a cono, no? C'è un buco, un foro della terra che va giù a cono. La primo strato è il purgatorio, il secondo è l'inferno e il terzo è il paradiso. Sotto altre realtà, è ovvio, anche se non ci credete, a me non me ne può affegare meno! Hai capito? Ecco, così! Un ragazzo di oggi dice tanto mi alleno, mi allineo, scusa ma alleno, mi allineo con il male, il male vince sul bene, no? E allora è meglio che non sto coi perdenti, sto con quelli che vincono, come lui. I miti, i miti, tutti i miti! Qua l'ho mito, è tutto eroe! Ma lo sai che mi sembri... proprio un micetto? E allora bella, 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 Questo è il diavolo.